ma guardassi che è l'odore che è rimasto fanno il tiro cane per favore ah la capo aspetta aspetta riprendo la capo del cane vedete Giacomo questo è qua ma ci indagliamo non si no iniziato io da 5 minuti questo è qua e non lo tagliamo se poi ti senti con Fabrizio con qualcuno con la dottoressa dell'EMPA ci serve il veterinario guarda proprio adesso l'abbiamo tirato fuori il cane in questo momento quindi aspettiamo un'ambulanza Cristian tienimo fermo che non lo fai guarda guarda